Buonasera a tutti, questa sera il mercoledì è dedicato a discutere e chiacchierare sul perché la Terra è abitabile. Partiamo da alcune immagini che rappresentano la Terra, sono le tre immagini sulla diagonale che va da in basso a sinistra, in alto a destra, rappresentano la Terra e abbiamo anche i nostri due vicini nel sistema solare, cioè Marte e Venere. Vediamo subito che, quello che sappiamo, la Terra è ricca di vita ovunque, mentre invece su Marte e su Venere, almeno finora, non ci sono evidenze di vita attuale, forse nel passato, ma attualmente non abbiamo evidenze di presenza della vita. Nonostante che alcuni ambienti siano a prima vista simili, le due immagini in alto rappresentano un tipico deserto marziano e invece il deserto del Negev, ma si vede subito che nel Negev c'è vita, ci sono batteri, c'è vegetazione, c'è acqua sulla superficie, mentre invece sotto abbiamo un'immagine di Venere con le temperature superficiali di diverse centinaia di gradi, centigradi e un'immagine di un vulcano dell'Etna e di nuovo apparentemente simili, ma in realtà diversissime perché anche sull'Etna, anche sui vulcani, abbiamo sempre una vita rigogliosa. E allora possiamo un po' chiederci perché di queste differenze. La prima osservazione è che la Terra, come diceva Alfred Wallace, contemporaneo di Darwin e co-fondatore, co-ideatore della teoria dell'evoluzione per selezione naturale, è un one grand organic whole, cioè un unico tutto organico. E questo è importante, questo vuol dire che l'interazione tra la geosfera e la biosfera è caratterizzante la dinamica del nostro pianeta. E qui vediamo alcune delle figure che hanno studiato, discusso questo problema negli ultimi 200 anni più o meno, un po' di più, e poi ancora di più negli ultimi decine di anni. Vediamo a colori sulla sinistra Alexander von Humboldt, il fondatore dell'idea di natura nel senso moderno, qui è dedicato un bellissimo libro uscito da poco alla vita, alle opere di von Humboldt, e sotto Wallace, e in alto questo pensoso scienziato che è Vladimir Vernadsky, che nel 1926 ha scritto un libro che si chiama Biosfera. Sulla destra vediamo Arthur Tansley in basso, che è l'inventore del termine ecosistema, e in alto Lynn Margulis, biologa statunitense molto importante nella storia della biologia, e James Lovelock, il padre fondatore dell'idea di Gaia. E un libro relativamente recente che è sulla geobiologia, cioè sull'effetto dei batteri sull'ambiente geologico, sull'interazione fra Geo e Bio, di Andrew Nol, che è uno scienziato attivo proprio in questi anni su questi temi. Per capire meglio l'importanza della biosfera pensiamo al mondo dell'Archeano, cioè da 4 miliardi a circa 2 miliardi e mezzo di anni fa. Temperature erano più alte di oggi, sono difficili da stimare, ma si stima diciamo intorno ai 40-50 gradi centigradi, con un'atmosfera molto diversa, priva di ossigeno, con anidride carbonica, diossio di zolfo, acqua, non un'atmosfera particolarmente riducente, ma certamente senza ossigeno. Gli oceani erano anossici, gli ecosistemi erano basati sulla chimica del ferro e dello zolfo e c'era fotosintesi, ma era una fotosintesi anaerobica. Ma poi con la comparsa dei cianobatteri e della fotosintesi aerobica, sostanzialmente l'ossigeno ha cominciato a essere prodotto, a accumularsi in atmosfera, anche per un cambiamento nelle emissioni vulcaniche probabilmente, per un cambiamento nella chimica del mantello terrestre e sostanzialmente circa 2,4 miliardi di anni fa l'ossigeno ha iniziato a essere presente in quantità molto minore rispetto oggi, 1% o meno rispetto oggi, ma comunque sufficiente per cambiare completamente il mondo, passare da un mondo anaerobico a un mondo dominato dalla presenza di questo gas, che è un gas velenoso, estremamente reattivo e a cui tutto l'ecosistema ha dovuto adeguarsi e cambiarsi. Tra il resto la comparsa dell'ossigeno ha probabilmente scatenato il grande cambiamento climatico della terra alla palla di neve, iniziato intorno alla prima grande glaciazione uroniana di 2 miliardi e mezzo di anni fa e poi fino all'ultimo episodio di Snowball, circa 540 milioni di anni fa, dove la terra periodicamente si è trovata quasi completamente coperta di ghiaccio e uno dei motivi, si pensa, è proprio stato la presenza di ossigeno in atmosfera che reagendo con il metano ha ridotto la quantità di gas serra in atmosfera e quindi sostanzialmente l'effetto riscaldante dell'effetto serra, dei gas effetto serra e quindi facendo precipitare la terra in questo stato completamente coperto di ghiaccio. In quell'epoca la vita era in gran parte unicellulare, batteri e archea, ma erano già presenti alcuni organismi multicellulari, eucarioti e poi multicellulari che si sono sviluppati in modo esplosivo subito dopo l'uscita dall'ultimo Snowball, prima con quella che è l'esplosione di Avalon, cosiddetta, che ha dato origine alla fauna di Ediacara e poi con l'esplosione cambriana che ha dato origine a tutta una serie di nuove strutture, forme corporee che sono state inventate in quel periodo. Devo dire che questa è una visione che magari fra qualche anno sarà di nuovo modificata perché ogni anno appaiono nuove ricerche, nuovi risultati, nuovi dati che permettono di capire meglio cosa è successo in quegli anni veramente speciali dopo l'uscita dall'ultimo episodio di Snowball. Tutto questo ha un legame molto forte col clima della Terra, del nostro pianeta, perché il nostro pianeta ha un clima che è un sistema complesso, un sistema non lineare, un sistema aperto. Cosa vuol dire aperto? Vuol dire che riceve energie e materie dall'esterno, non lineare vuol dire che gli effetti non sono sempre proporzionali alle cause, è complesso perché ha molti elementi diversi che interagiscono e interagendo generano caratteristiche nuove, proprietà cosiddette emergenti. Allora guardiamo le forzanti, la forzante principale è quella solare, l'energia che riceviamo dal Sole, che viene poi riemessa sotto forma di emissione infrarossa. Ma oltre a questo abbiamo anche il decadimento radioattivo degli elementi radioattivi presenti nel mantello della Terra, che originano la convezione nel mantello e quindi la tettonica a placche, e la condensazione dei metalli nel nucleo che genera calore e genera a sua volta la convezione della parte liquida del nucleo terrestre e quindi poi il campo magnetico, come vedremo fra un momento. Nello stesso tempo sono importanti sia la dissipazione mareale legata alla presenza di un satellite così grande come la Luna, che gli impatti che di tanto in tanto, seppur sempre più raramente rispetto a 4 miliardi di anni fa, ma gli impatti che colpiscono il nostro pianeta. Allora perché il clima della Terra è speciale? Cos'ha di diverso rispetto a Marte, a Venere o a Mercurio o alla Luna? Beh, prima di tutto c'è un inviluppo fluido, e c'è dell'acqua, è un pianeta ricco di acqua. Poi la temperatura e la pressione alla superficie sono vicini al punto triplo dell'acqua. Poi abbiamo una geodinamica attiva, la subduzione, la tettonica a placche. Abbiamo un campo magnetico sufficientemente forte da, diciamo, proteggere l'atmosfera terrestre dal vento solare. C'è una Luna, un grande satellite, grande rispetto alla massa della Terra, e c'è la presenza ubiquitaria della vita, come dicevamo prima, che può essere una conseguenza quasi automatica di queste caratteristiche precedenti, oppure può essere una delle altre caratteristiche del nostro pianeta. Cominciamo con l'atmosfera, l'effetto serra, la presenza di gas come l'anidride carbonica, il metano, il vapore d'acqua in atmosfera fa sì che la radiazione solare possa passare quasi indisturbata attraverso questo strato di gas, ma sono tutte molecole che assorbono la radiazione infrarossa emessa dalla Terra, si riscaldano e la riemettono in parte verso l'alto e in parte verso il basso, ma l'effetto è che sulla superficie arriva sia la radiazione solare, qui dipinta in giallo, sia la radiazione infrarossa riemessa e quindi alla superficie si riceve più energia di quella che si riceverebbe senza l'effetto serra, mentre nell'alta atmosfera viene assorbita meno energia di quello che sarebbe se non ci fosse l'effetto serra e quindi grazie a questo effetto la temperatura media alla superficie della Terra cambia da meno 18 gradi, che sarebbe il valore se non ci fosse l'iga serra, a circa 15 gradi, che è il valore più o meno medio che osserviamo oggi, quindi l'effetto serra è una buona cosa, l'effetto serra è ciò che rende possibile la vita sulla Terra. Attenzione che come tutte le buone cose vanno prese naturalmente nelle dosi giuste, su Venere l'effetto serra è andato fuori controllo e l'effetto netto alla fine è un pianeta in cui tutta l'acqua si è, un'atmosfera planetale in cui tutta l'acqua si è fotodissociata ed è sparita, l'idrogeno è sparito nello spazio cosmico e quindi l'atmosfera è molto secca con temperature, dicevamo, di centinaia di gradi, quindi l'effetto serra è una bella cosa quando rimane nei limiti corretti. Noi per fortuna siamo molto distanti dal caso di Venere, ma chiaramente l'aumento di gas serra per attività antropiche comporta un aumento delle temperature che ha tutta una serie di conseguenze non positive, anzi fortemente negative, su ampie regioni del globo, ma di questo non parliamo oggi, parleremo eventualmente un'altra volta. Il secondo punto importante legato alla presenza di un sviluppo fluido è il fatto che il calore può essere trasportato per moto fluido e il trasporto di calore per moti del fluido è molto più intenso e più efficace di un trasporto per conduzione. Abbiamo sostanzialmente un trasporto in atmosfera attraverso la circolazione generale dell'atmosfera e un trasporto del calore attraverso la circolazione oceanica nei due modi, la circolazione cosiddetta guidata dal vento in alto, cioè sono i due chilometri superficiali di mare, e la circolazione termoalina che invece è più lenta e più profonda. Il calore ricevuto all'equatore, che è molto maggiore di quello ricevuto ai poli, viene attraverso questi meccanismi trasportato verso i poli e quindi sulla Terra si ha una differenza di temperatura fra Equatore e Polo che è inferiore a quella che si avrebbe su un pianeta incapace di trasportare il calore in eccesso ricevuto all'equatore. Quindi abbiamo un clima più omogeneo, una distribuzione di temperature più omogeneo rispetto a quello che avremmo su un pianeta senza atmosfera. Dicevamo poi che nell'atmosfera c'è l'acqua, così come c'è acqua negli oceani e sulla superficie terrestre, con temperatura e pressione vicini al punto triplo dell'acqua. Il punto triplo è quel punto di pressione e temperatura a cui le tre fasi, solido, liquido e vapore, possono coesistere. Allora, questa vicinanza fa sì che sia possibile sulla Terra un ciclo idrologico estremamente complesso e estremamente importante da un punto di vista termodinamico. L'acqua evapora, quindi passa dallo stato liquido allo stato vapore, si condensa in atmosfera, in alta atmosfera, trasportando con sé il calore latente, viene trasportata in giro per l'atmosfera, forma le ciorline di nube, forma le nubi, forma la precipitazione sotto forma di pioggia, di neve, la quale in parte fluisce sotto forma liquida lungo i fiumi o nel sottosuolo, in parte si ferma sotto forma di neve o di ghiacciai e fluisce più lentamente fino a tornare al mare oppure a essere intercettata dalla vegetazione, assorbita dalla vegetazione e poi essere traspirata dalla vegetazione, quindi accorciando questo ciclo. Questo ciclo è cruciale per il clima perché controlla il clima della Terra ed è a sua volta controllato dalla distribuzione delle temperature e dalle caratteristiche del clima. E di nuovo può avvenire la termodinamica umida della Terra e non c'è su Marte e non c'è su Venere. L'altro punto importante è la tettonica a placche, il fatto che il mantello della Terra, del nostro pianeta, ha un moto di convezione molto lento perché è una forma sostanzialmente solida, le parti liquide sono poche, ma con questa convezione riesce a portare le placche superficiali, la parte della crosta oceanica, a farla scendere in profondità. Scende in profondità, viene riassorbita, rifusa, riciclata. La Terra è l'unico pianeta conosciuto che abbia in questo momento una tettonica a placche così attiva e così importante, ci sono molte discussioni su quando si è iniziata la tettonica a placche, su un miliardo di anni fa, 2, 3, 4, ed è un tema estremamente importante per capire come funziona un pianeta. Quello che ci interessa qui è che il carbonio che compone l'anidride carbonica in atmosfera viene assorbito durante i processi di alterazione delle rocce e la formazione di carbonati che poi vengono trasportati nelle zone di oceano, piattaforma continentale e vengono poi depositati. Se questo processo andasse avanti, piano piano l'anidride carbonica in atmosfera verrebbe tutta assorbita e diminuirebbe l'effetto serra. Invece, proprio su quelle piattaforme continentali, il movimento delle placche fa sì che queste zone di crosto oceanica vengano portate in profondità nel mantello dove il carbonio viene liberato, si ricombina con l'ossigeno e viene poi emesso sotto forma di nede carbonica o di metano, ma molto nede carbonica dai vulcani o anche dalle faglie non necessariamente associate a zone vulcaniche. Quindi è un ciclo geologico molto lento del carbonio che porta circa 0,5 miliardi di tonnellate di carbonio all'anno a essere scambiate fra l'atmosfera, la crosta oceanica, il mantello, il mantello superficiale e poi riemesso in atmosfera. È un ciclo fondamentale che permette di tenere la CO2 in atmosfera. Quando diventano più veloci le emissioni vulcaniche, la CO2 aumenta, come è capitato in molte occasioni nel passato della Terra, quando per qualche motivo si accelera l'alterazione delle rocce superficiali, allora viene assorbita più CO2 e la temperatura diminuisce. Di fianco al ciclo geologico c'è ovviamente il ciclo biologico del carbonio che è legato invece alla fotosintesi come assorbimento di CO2 e alla respirazione delle piante, del suolo e ai processi di decomposizione come sorgenti di CO2 in atmosfera. E questo è un ciclo in realtà molto più veloce, che scambia circa 200 miliardi di tonnellate di carbonio per anno, ma che è superficiale e che in qualche modo ha le proprie radici su tempi molto lunghi nel ciclo geologico. E quindi vedete che per avere questi cicli è importante avere la tettonica placca. Domanda, è possibile un ciclo del carbonio su un pianeta senza tettonica placca e con un modo diverso di rilasciare il calore del mantello? Nessuno lo sa ed è uno dei temi su cui c'è in effetti discussione. Altro punto fondamentale è il campo magnetico della terra generato dalla convezione nel nucleo della terra. Il nucleo della terra è una parte solida e una parte liquida. Nella parte liquida c'è una pioggia sostanzialmente di metalli che vanno a condensarsi al nucleo solido. Facendo questo rilasciano calore dal basso del nucleo liquido, della parte liquida, e generano correnti convettive che per effetto dinamo generano il campo magnetico. Campo magnetico fondamentale perché protegge l'atmosfera terrestre dal vento solare, cosa che non è avvenuta per esempio su Marte. E quindi anche il campo magnetico della terra è un elemento fondamentale per la permanenza dell'atmosfera terrestre e quindi della vita sulla terra. E infine la luna. La luna non di un poeta o un pittore o un musicista, ma di un astronomo che è Jacques Lascar, che insieme ad altri ha mostrato come se non ci fosse la luna, l'asse di rotazione della terra oscillerebbe molto più violentemente di quanto fa in realtà nel nostro caso. col rischio di randomizzare le stagioni su tempi dell'ordine delle centinaia di migliaia di anni, mentre invece la presenza di un satellite così grande come la luna stabilizza le oscillazioni dell'asse terrestre e fa sì che oscilli intorno a quei 23 gradi di inclinazione che ha oggi un po' di violento come potrebbe capitare se non ci fosse la luna. Tutto questo fa sì che la vita abbia potuto permanere sulla terra, ma a sua volta la biosfera influenza la dinamica del pianeta, tant'è che alcuni interpretano il termine biosfera non come la sfera dei viventi, ma la terra, la parte alla superficie della terra. E quindi vediamo alcuni modi in cui la biosfera può influenzare il clima terrestre. Il principale è attraverso i meccanismi di retroazione, cioè meccanismi di controllo e vediamone alcuni che riguardano in particolare la biosfera. Supponiamo che a un certo punto ci siano maggiori emissioni di carbonica vulcanica, la temperatura diventa più alta per effetto serra e quindi dato che l'alterazione delle rocce dipende dalla temperatura, l'alterazione diventa più rapida. Quindi viene ridotta la CO2 atmosferica e la temperatura non torna a quello che era prima, ma si stabilizza. Questa alterazione in realtà dipende, è particolarmente efficiente se c'è vegetazione, se ci sono batteri, cioè se c'è una parte vivente. L'alterazione è meno efficiente quando è puramente fisico-chimica. Gli aspetti chimici e fisici legati alla presenza della biosfera la rendono molto più efficace. Quindi questo ci permette anche di introdurre la domanda su quali siano gli effetti della vegetazione sul clima e sono sostanzialmente tre. In generale la vegetazione è più scura del suolo, quindi assorbe più radiazione solare rispetto alla sabbia. Nei deserti questo è un meccanismo importante, chiamato meccanismo di Cerni, che è molto rilevante per determinare la temperatura e le caratteristiche e la piovosità stessa in un deserto. La vegetazione a sua volta riduce la CO2 atmosferica, o comunque entra nel ciclo del carbonio. E poi l'evapotraspirazione della vegetazione è più rilevante, più importante, della pura evaporazione del suolo nudo, che è veloce ma è confinata ai centimetri superficiali, mentre invece la traspirazione delle piante prende acqua anche più profonda. E poi ci porta a una versione del meccanismo di Cerni per l'evapotraspirazione. Supponiamo di essere in un deserto, a un certo punto abbiamo meno vegetazione, supponiamo perché la tagliamo, quindi abbiamo minore traspirazione e quindi abbiamo una minore instabilità della colonna atmosferica e quindi riduce la convenzione della colonna atmosferica e quindi le precipitazioni. In realtà cambia la distribuzione delle pressioni, cambia i monsoni, abbiamo minore precipitazione e dato che la vegetazione nel deserto è limitata dalla precipitazione, vuol dire che meno vegetazione porta ancora meno vegetazione. È un feedback, una retroazione amplificante, positiva. Ci sono poi altri modi in cui la biosfera interviene a modificare l'ambiente. È un termine che è stato coniato nel 1994, è gli ingegneri dell'ecosistema, cioè sono quegli organismi in grado di modificare pesantemente l'ambiente in cui vivono. L'esempio classico è quello dei castori. I castori trasformano una valle, quindi un ecosistema terrestre, in un lago, quindi in un ecosistema acquatico e facendo questo lo fanno perché in questo modo sono al riparo dei predatori terrestri, ma cambiano completamente l'ambiente. Analogamente i lombrichi cambiano le caratteristiche del suolo e nel deserto, le immagini che vediamo in basso a sinistra, le arbusti del deserto insieme agli isopodi, che sono questi bestiolini che vedete a sinistra nel riquadrino, in alto a sinistra dei quattro riquadri, questi cambiano le caratteristiche locali perché in particolare le piante permettono di accumulare nutrienti e a sotto le loro radici. Gli isopodi scavano gallerie che rendono più facile far infiltrare l'acqua in vicinanza di questi arbusti e quindi creano delle isole di fertilità, delle isole anche di umidità dove altre specie possono approfittarne. Non c'è nessun finalismo, chiaramente ciascun organismo si muove e agisce per proprio beneficio, ma facendo questo viene cambiato l'ambiente. Questo ci porta a dire che gli ingegneri dell'ecosistema possono anche cambiare le pressioni evolutive su altri organismi perché cambiando per esempio i castori, una valle da un ecosistema terrestre a un ecosistema acquatico, cambiano completamente le pressioni evolutive, le pressioni selettive su tutti gli altri organismi che vivono in quell'ambiente. A scala ancora più grande abbiamo che la biosfera è uno dell'attore principale in tutti i cicli biogeochimici. Abbiamo certamente dei cicli geochimici soltanto per esempio nelle profondità del mantello, ma tutto quello che capita alla superficie e per parecchi chilometri sotto la superficie in realtà è biogeochimica. Il ciclo dello zolfo, dell'azoto, del carbonio, del fosforo e anche dei metalli non sarebbero come sono se non ci fosse l'effetto importante, dominante in alcuni casi, degli organismi viventi. Quindi anche a scala globale i grandi cicli biogeochimici sono fortemente influenzati dalla presenza della biosfera. Sempre legati alla biosfera sono alcuni problemi che ci portano a quelle che sono le instabilità inattese del cambiamento climatico. Ora con l'aumento della carbonica, aumentano le temperature, cambiano il regime di precipitazione, riusciamo a fare delle previsioni con i modelli climatici perché sono variazioni per nostra fortuna relativamente modeste rispetto alle grandi variazioni che potrebbero esserci, ma ci sono possibili punti di instabilità, chiamati talvolta tipping points, chiamati punti di catastrofe, punti, momenti in cui il sistema, in questo caso il sistema climatico, cambia bruscamente. Qui ne cito due che sono particolarmente rilevanti. Uno è lo scongelamento del permafrost. Il permafrost è il suolo perennemente ghiacciato dell'artico e contiene enormi quantità di materia organica che è congelata. Allora se il permafrost si scongela, e capita come succede quando uno lascia il freezer spento con il cibo dentro, marcisce, allora la quantità di materia organica che sta nel permafrost che si scongela viene attaccata dai batteri, viene decomposta con rilascio di metano. E quindi il rischio è che uno scongelamento generalizzato del permafrost possa rilasciare tra questi processi grandi quantità di metano, che è un gas serra estremamente potente, e quindi accelerare enormemente l'effetto serra. Altra instabilità possibile, è il cosiddetto altro problema della CO2. La CO2 è solubile in acqua, se aumenta la quantità di CO2 in atmosfera aumenta anche quello in acqua, per questo motivo l'acqua dell'oceno diventa più acida e buona a molti, non tutti, ma a molti organismi, i coralli certamente, ma anche altri organismi come mostrato qui da queste conchiglie, sono sensibili al pH, al grado di acidità, e quindi con un aumento dell'acidità vengono penalizzate queste componenti dell'ecosistema marino, che sono peraltro proprio le componenti più in grado di assorbire la CO2, la cosiddetta pompa biologica di assorbire la CO2 e poi di stoccarla, di depositarla in fondo all'oceano. Se questa componente dell'ecosistema marino diventa meno efficace a causa dell'aumento dell'acidità, a causa dell'aumento della CO2, sarà meno in grado l'oceano di assorbire CO2, quindi più CO2 ci sarà in atmosfera, con le conseguenze di una maggiore acidificazione e di un aumento ulteriore delle temperature. Ecco, due instabilità possibili legate proprio alla presenza della biosfera. Un accenno su un'attività che stiamo conducendo proprio in questi anni è lo studio della cosiddetta zona critica. La zona critica è un termine coniato negli anni 2000 dalla National Science Foundation americana e dal National Research Council americano, ed è quel strato fondamentale tra il fondo dell'acquifero superficiale e la cima delle vegetazioni, che comprende il suolo, che comprende la vegetazione, comprende gli organismi che vi vivono e qui avvengono tutti i processi fisici, chimici, biologici, idrologici, geologici che sostengono l'ecosistema terrestre. La zona critica la si studia andando in verticale, vedete l'immagine sulla destra, e in genere viene studiata in un piccolo bacino idrologico per cercare di catturare tutte le componenti. L'immagine che c'è al centro è un numero di EOS, che è la rivista dell'American Geophysical Union, che è uscito l'anno scorso, nel 2020, interamente dedicato a questo concetto che è importante perché è dove veramente geosfera e biosfera interagiscono in modo molto forte, ed è una zona critica sia perché avvengono tutti i processi critici, sia perché è critica per la nostra stessa sopravvivenza, pensiamo soltanto alla produzione agricola, ad esempio. Ed è anche chiamata, proprio per sottolineare questo incontro fra geo e bio, dove la roccia incontra la vita. Noi, al CNR, all'Università di Torino, stiamo studiando la dinamica della zona critica in diversi osservatori. Uno è al Gran Paradiso, al Nivolè, dove abbiamo installato strumenti per misurare i flussi di carbonio, di acqua, la chimica del suolo, la chimica isotopica, e usando dati satellitari, dati di campo, modelli numerici, e c'è un'attività molto ricca in questo osservatorio. Poi ce n'è un altro che stiamo stabilendo all'Etna, un altro al Monte Rosa, un altro alle Svalbard, già attivo, insomma un altro all'isola di Pianosa, e ce ne sono diversi proprio per studiare come si comporta questa zona così cruciale. Quindi in sostanza io direi che uno dei, forse, insomma è un po' una visione mia personale, ma credo che uno degli scoppi più belli di chi si occupa di geoscienze sia proprio capire la dinamica di quel sistema complesso che è la Terra, e in particolare svelare come le interazioni fra geosfera e biosfera rendano speciali il nostro pianeta, e forse rendono speciali anche altri pianeti. Tutti i discorsi sulla possibile abitabilità dei migliaia di pianeti di ipotelestri che sono stati osservati, che si stanno osservando, per forza di cose per adesso teoriche, ma insomma ci insegnano, ci devono insegnare proprio a capire cosa vuol dire perché un pianeta è abitabile e che cosa vuol dire che la vita modifica l'ambiente planetario. E queste sono sfide scientifiche che saranno probabilmente da affrontare per parecchi decenni a venire. E con questo io vi ringrazio per l'attenzione.